Ha raccontato di aver subito una rapina nel centro storico di Fano, ma le telecamere di videosorveglianza lo hanno incastrato. A finire nei guai è stato un trentenne fanese denunciato dalla polizia per simulazione di reato di rapina aggravata. L'uomo qualche giorno prima aveva denunciato in commissariato di essere stato vittima di una rapina dopo aver prelevato 100 euro da un bancomat di un istituto bancario vicino a Porta Maggiore. Il trentenne ha riferito agli agenti di aver attraversato a piedi il pincio per poi dirigersi verso via Montevecchio dove sarebbe stato aggredito alle spalle da due giovani individui che lo avrebbero colpito alla gamba, immobilizzato e derubato tentando anche di strappargli la collanina in oro che indossava. I due sarebbero fuggiti verso la galleria di via Montevecchio, luogo in cui la vittima ha detto di aver ritrovato il portafogli che gli era stato sottratto ma privo del denaro contante. Durante le indagini però le forze dell'ordine hanno scoperto delle incongruenze con quanto ha dichiarato l'uomo. In particolare la ricostruzione degli avvenimenti ha portato a constatare che il fanese non si era mai recato in quelle vie. Determinanti sono state le riprese video di apparati privati di registrazione di alcuni esercizi commerciali del posto ma anche che il giovane si era presentato in commissariato dopo circa cinque ore dalla rapina in compagnia della moglie. Una serie di indizi che hanno portato a svelare che il trentenne si era inventato tutto. L'uomo, messo di fronte all'evidenza dei fatti, ha confessato ai poliziotti di aver simulato la rapina per giustificare al proprio coniuge di aver perso il denaro.